e siamo a martedì 18 agosto il vol di oggi si chiama stairs well ovvero le scale per l'inferno e sapete perché? perché è un four time con 50 40 30 20 10 double under, up, sit up e push up and release ad ogni round dovrete fare 200 metri di corsa buon divertimento noi ci vediamo domani per un altro vol di insieme quello del mercoledì su Ciper TV